Ho assicurato che avrei rappresentato a Roma queste aspettative. Io penso che le direttive che ci giungono sono proprio in questa direzione, di fare squadra, di metterci insieme, cioè il tessuto delle istituzioni e dei cittadini deve stare insieme. La coesione sociale, la pace sociale e l'ordine pubblico sono dei beni altrettanto importanti rispetto agli altri di cui oggi stiamo chiedendo che vengano tutelati.